Benvenuti alla Vitrifrigo Arena, Carpegna, Prosciutto, Pesaro, Open John Metis Varese, tredicesima giornata di Serie A, la gara numero 143 tra queste due squadre, una superclassica del nostro campionato. Cinque secondi, centro Ares, si botta lì indietro, Valerio Mazzola. Stemetta, tre punti di Nico Mannion, bellissima, tripla di Mannion. Lecdermot alza il pallone per Totti. Prima il primo highlight della partita, alza Banzo, schiaccia a tutti. Mentre Cinciarini attacca ancora di mano sinistra contro Librizi. Totti, cinque metri, segna. Corre Brown che è completamente da solo, linea di penetrazione, bruttissimo, rientro difensivo della Carpegna, Prosciutto. Ringrazia e ne segna due a Brown. Ford e cambia velocità, lo finì in fondo, ma da perare al pallone. Manford ne ha appena segnata una, questa la tira sicuro. Un'altra tripla, ancora Scott Manford. Carole con Brown, palleggio, arresto, tiro dal comito, cinque in fila di Matteo Librizi. Brown con palleggio, arresto, tiro ancora, è caldo, è caldissimo. Cinciarini attacca fino in fondo, attivo l'aiuto, allora Andrea Cinciarini. Cinciarini, il nostro lavoro sarà, dovrà essere fermare, dovrà essere attacca in transizione e a nostra volta attaccare, scuro. E alla fine Banford, che guarda Ford e lo serve, ora profondo di fisico, contro Brown. Banford finita, della partenza incrociata, manda Alan contro il blocco, tripla di Scott Banford. McDermott subito da tre punti, Sean McDermott. Ritorna Tamone a prendere quella palla, step back piede sulla riga, vale due, non va bene lo stesso, perché segna Matteo Tamone. Young, in angolo, ci pensa, fuori di nuovo per Young, costruisce molto bene Varese, la tripla di Young. Cinciarini, due blocchi, sceglie quello di Bluiette che esce e spara da tre punti, segna, tremo Bluiette. Chiude il possesso Menion, che passa in mezzo a due, finì in fondo Nico Menion, cambia velocità. Mazzola da tre punti, fondamentale, segna Valerio Mazzola. Menion, stavolta fa palleggiare il resto, tripla di Nico Menion. Menion brucia tutti, Nico Menion. Sì, ma ovviamente da Nico Menion, palleggia il resto, tripla di Menion, anche questa, anche questa. Menion ancora contro Tamone, dipende molto bene Tamone, alla fine Menion la ritrova a LAN, quattro secondi. Cambio difensivo, De Raja su Tamone, Menion all'ultimo secondo. Secondo! La palla va in mano a Nico Menion, ultimi due secondi finisce qui. Spettacolare! Nico Menion trascina a Varese nel quarto quarto. 88 a 81 sul campo della Carpegna Prosciutto. Sono contento di stare qui in Italia, a stare a Varese. Voglio dire grazie a tutti per il supporto, è stato un welcome fantastico. Sono molto contento di essere qua e tornando a giocare. ид Carpegno